Lanceremo 5 nuovi modelli di fuoribordo elettrici entro il 2023. Correva l'anno 2021. Parole di Chris Dress, il presidente di Mercury Marini. Promessa mantenuta. Lo abbiamo verificato a Venezia, al Salone Nautica. Questo è l'ultimo Mercury? Sì, questo è l'ultimo della famiglia Abator, 110e. Stiamo parlando di un motore elettrico da 11 kilowatt di spunto, di potenza. È equipaggiato con tre batterie da 5.44 kilowattora. Che si trovano nella parte centrale di questo quartello Naumat. È corredato anche di un power center, che è una sorta di centrale, centralina di controllo, che gestisce le tre batterie. Grazie. Grazie.